asia non è andata a controllare perché maria ha tirato il giusto il primo che c'è musona 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 claudia se ti do il biscotto in mano la cerchi di chiamare anche così la busta di Wuster buono il biscotto non si capisce che è piccola ma queste altre sono femmine o maschi per capire che ho provato maschio maschio si no per capire se va d'accordo pure con le femmine ciao allora io voglio arrivare a metterlo alla ciao ciao amore ciao amore si sta fidando però un pochino c'è un pochino ebbè ma si sta quasi è rimpato prima di tutto ciao 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 ciao